Un pregiudicato egiziano di 31 anni. Il Sayed Adel Mohamed Soliman Eldoki, domiciliato in Villa Literno, ha richiamato l'attenzione su di sé dopo un'accesa lite innescata con una vicina di casa. Il Sayed Adel Mohamed Soliman. L'egiziano, che dovrà espiare la pena residua di un anno, 10 mesi e 28 giorni di reclusione per i citati reati commessi ad Avezzano in data 3 novembre 2014, è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capuavetere. Il Sayed Adel Mohamed.